Abbiamo gerade frisches hei bekommen, und es ist noch etwas naso, und riecht komisch, und Sie wollen bestimmt auch nicht demorgen... So, stai te, bitte. Bitte, bitte nicht. Ce l'hai fatta? Dov'è, Rei? Dovrebbe essere qui con voi. No, è tornato a cercati. Mal inizio! Also... Dieser sogenannte Geruch... ...ist überhaupt gar nicht so stark. Nicht wahr, Gruber? Ich rieche nichts. Und Sie sagen, hier war wirklich niemand? Jetzt willst du aber! Er war hier! 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 Niente per lui. Non dobbiamo andare via di qui. Lo faranno parlare e ci troveranno. Dobbiamo andare via. No. Che vuol dire no? Che vuoi fare, eh? Don, chiedile dove lo stanno portando. Vuoi seguirlo? Ma sei pazzo? Come ti viene in mente? Dice che il quartier generale tedesco è dall'altra parte della foresta, in un villaggio, e che da lì lo porteranno in un ostalag. Portala qui. Va bene. Non si non capisci. Non possiamo servire. Sarà ti è un tempo di tedeschi. Quanto vale che ci arrendiamo. Non abbiamo nessuna chance contro di loro. Si, è vero. Ma possiamo intercettare quel l'auto. Che a dire se c'è una scoccia tua? Gibt es una abruzione zum Hauptquartier? Ja, sie müssen hier den Fluss überqueren und dann sind sie auf der Straße, wo die Soldaten unterwegs sind. Sie geht durch ein nahegelegenes Dorf, über eine Brücke, bevor sie zum Hauptquartier zurückführt. Dice che se tagliamo per la foresta, al di là del fiume, dovremmo riuscire a bloccarli dalla parte opposta della strada. Mi assicura. D'accordo, Don. Tu resta qui con Harry. Io e Ed andiamo nella foresta e vediamo se possiamo fermarli. Perché non abbiamo voce in capitolo? Va bene. Ed, allora resti tu qui con Harry. Don? E tu gli dai rete. Non possiamo abbandonare Ray. Lo so, ma guardiamo in faccia la realtà. La cosa è l'egoismo. Sta scappando, fermatela. Nein. Lasst mich in Ruhr. Let's keep quiet. We're not with you, Hazel. Hazel, Hazel, between the next. You must be saying, we will not go out. Bitte. Hazel, Hazel. Bitte. Bitte. Perché vuoi rischiare la vita? Lui non lo farebbe per te. Perché io non sono lui. Siamo la sua unica chance. D'accordo. Va bene. Ma se è al quartier generale. Lo lasciamo lì e tagliamo la torta. D'accordo. Ti aspettiamo, allora. Tanti ti mandato a Strasse? Io. Lui. Lui. Tanti ti mandato a Strasse? Lui. Ehi, scendi dalla macchina. Ehi, scendi dalla macchina. Ehi, scommetto che questo è importante. Sembrano le posizioni degli armamenti o qualcosa del genere. Potrebbe seguire a Monty e ai suoi uomini. Ok, andiamo via. Aspetta un secondo. Che ne facciamo di lui? Non puoi lasciarlo via. Avanti, secondo te non dirai ai suoi amici in che direzione siamo andati. Ha ragione, l'idea non piace neanche a me, ma è così. Lo farò io. Aspetta. Lo forziamo con noi. Cosa? Sia più utile vivo che morto, tenente. D'accordo, capitano. Torniamo alla fattoria. Veloci! Sia più utile vivo. grazie 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 ho studiato in london in london in london tu sei un bel tu sei un bel mi piacere se si grazie 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 All'ospedale militare più vicino. È della SS, non ti puoi fidare. Della Wehrmacht forse, ma non della SS. Voglio la tua parola. Hai la mia parola. Non possiamo fidarci. Sì, dovrei. Nessuno si farà male. Voglio la tua parola. Don, Ed, nascondetevi là dietro. Andate, adesso. Bravi, andate bene via. Andate bene. Andiamo. Andate, andate bene. Andate, andate bene. Ed, ascoltavi bene. Ed, Ed, Ed. Dobbiamo andare avanti. Possiamo aiutare. Dobbiamo andare avanti. Possiamo aiutare. Non c'è niente. Che possiamo fare? Dobbiamo andare avanti. Non abbiamo altra scelta. Dobbiamo rimanere uniti. Dobbiamo andare. Andiamo. Coraggio. Sì, ho ragione. Quella è Fales, sotto la collina. È dove Monti e i suoi uomini sono in stallo con i tedeschi. Questo spiegherebbe la pattuglia che abbiamo visto oggi. Quindi proseguiamo. Raggiungiamo Monti e i suoi dall'altra parte della città. E torniamo a casa. Questo è il piano. E come facciamo a superare i tedeschi? Non lo so. Dobbiamo provarci e basta. Suggerimenti? Rai? Sono con te. Quando ricarica non corriamo. Adesso. Dovevamo per forza passare di qua? Cosa volevi fare? Potevamo aggirare la città. È quello che hanno cercato di fare Monti e i suoi uomini. Hanno circondato Fales. Composti di blocco e mini anti-uomo. Non avevamo altra scelta. Dall'altra parte della città c'è l'esercito britannico. Ora o mai più, ragazzi. Siamo arrivati finché. Ce la possiamo fare. Un ultimo sforzo. Andiamo. Un ultimo sforzo. Un ultimo sforzo. Un ultimo sforzo. Un ultimo sforzo. ho paura che non riuscirò ad andare molto lontano amico mio allora quante ne hai avuto? cosa? lo sai? donne? più o meno 8 patetico vero? tu quante ne hai avute? almeno 20? diciamo che ti devo 40 sterline non erano 50? non ci l'avrebbe mai detto eravamo convinti che fossi un vero don giovanni mi dispiace aversi deluso che chiamiamo no ed no ed andiamo forza andiamo andiamo ok 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 Respira forza, respira Ray 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.